Sarà un'azienda toscana, l'ADS di Agnosti Casenese, che lavora in stretta collaborazione con l'Istituto Spallanzane di Roma a fornire alla Regione Toscana i test sierologici per lo screening di massa del coronavirus Covid-19 disposto dal Presidente Enrico Rossi per contenere l'epidemia. Lo screening sarà effettuato prima a 60.000 operatori sanitari delle strutture pubbliche e private, poi su cittadini indicati dai medici di famiglia. Ad eseguirlo saranno unità speciali di sanitari, una ogni 30.000 abitanti. Il Presidente Rossi ha dichiarato anche che i tamponi per il consueto test sul coronavirus saranno portati dagli attuali 2.000 a 5.000 al giorno. Sul fronte del lavoro, dopo che il Governo ha emanato il decreto legge Cura Italia, che ha stanziato oltre 3 milioni di euro per finanziare su tutto il territorio nazionale la Cassa Integrazione Inderoga, la Regione Toscana ha subito siglato l'accordo con le parti sociali per definire criteri e procedure per l'utilizzo della quota di risorse che spetterà la Toscana, a cui si aggiungono 60 milioni di euro, frutto della gestione virtuosa da parte della Regione dei precedenti ammortizzatori inderoga. Potranno richiedere la Cassa Inderoga fino a 9 settimane tutti i datori di lavoro del settore privato, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, con presidenti religiosi civilmente riconosciuti, con sede in Toscana alla data del 23 febbraio scorso e anche con meno di 5 dipendenti, unica eccezione i datori di lavoro domestici. Le domande potranno essere presentate quando saranno emanati i decreti interministeriali e la circolare applicativa dell'Ibs, ancora in fase di elaborazione.